Kingston Technology è il più grande produttore di prodotti di memoria, con sedi e stabilimenti in tutto il mondo. L'azienda ha sede a Fountain Valley, in California. Kingston è specializzata nella progettazione e nella produzione di memorie e prodotti flash per lo storage dati, come dischi a stato solido, drive flash USB, schede flash e chip flash integrati per smartphone e tablet. Kingston offre oltre 2.000 prodotti con un database in continua espansione e supporta 41.000 dispositivi, tra cui telefoni cellulari, notebook e server. I prodotti nascono nel reparto progettazione, dove i progettisti sviluppano nuove tecnologie e migliorano le tecnologie esistenti. Questo video illustra il processo produttivo delle memorie DRAM. In qualità di membro del GEDEC, Kingston contribuisce a definire gli standard di settore nel campo dei moduli di memoria. Kingston produce memorie conformi agli standard di settore e memorie proprietarie dedicate per sistemi non standard, nonché soluzioni di memoria su specifica del cliente. La fase di progettazione avviene nel reparto CAD, dove i progettisti di Kingston mappano i layer della scheda a circuiti stampati. Successivamente, i prototipi vengono sottoposti ai test di valutazione della compatibilità, durante i quali vengono testati in condizioni operative reali. Sulle schede madri, i sistemi o le classi di sistemi specifici ai quali le memorie sono destinate, per verificarne la compatibilità. Occasionalmente, quando i sistemi o le schede madri non sono ancora disponibili per testare le tecnologie future, Kingston utilizza piattaforme di test avanzate proprietarie. Questi tester simulano i parametri dei sistemi futuri utilizzando software progettati e programmati dagli specialisti di Kingston. Queste piattaforme sono utilizzate anche per qualificare i nuovi componenti, come TRAN, NAND, Controller, registri e componenti passivi. Una volta che il design è stato approvato, i progetti vengono inviati al reparto produzione per l'assemblaggio, le procedure di test e il confezionamento. Con oltre 64 linee produttive nel mondo, la produzione di Kingston supera i 300 milioni di articoli all'anno. Un volume superiore a quello di qualunque altro produttore di memorie. Con tali volumi produttivi, l'azienda deve necessariamente utilizzare processi produttivi di assoluta eccellenza. Producendo per aziende terze, Kingston ha sviluppato il suo processo ispirandosi ad alcuni dei principali produttori di semiconduttori e di PC mondiali. I prodotti Kingston sono assemblati sulle stesse linee produttive utilizzate per le memorie prodotte per conto di alcune delle marche più famose. Durante ogni fase di produzione, test e confezionamento, Kingston adotta rigorose procedure di controllo qualità per garantire il mantenimento degli elevati standard qualitativi. Il team di controllo qualità di Kingston e i partner esterni eseguono audit costanti, interni ed esterni, sui processi produttivi, garantendo il mantenimento dei più elevati standard di settore. Osserviamo ora il processo produttivo di un tipico prodotto Kingston. Prima selezioniamo le nostre materie prime, incluse le DRAM, in tutte le configurazioni, approvvigionandoci presso i principali produttori di semiconduttori mondiali. I prodotti Kingston sono assemblati su linee con tecnologia a montaggio superficiale. La prima fase è il passaggio attraverso la stampante serigrafica. La pasta saldante viene prima applicata su uno stampo a specchio e poi trasferita su una scheda a circuiti stampati. In seguito, le schede attraversano una stazione di spezione ottica automatizzata, per un accurato controllo dello spessore e dell'integrità delle saldature. La fase successiva è quella del montaggio superficiale, in cui la prima di due macchine di montaggio posiziona i componenti passivi, come resistori e condensatori, sulla scheda, mentre la seconda superficiale posiziona i componenti primari, come i chip DRAM. Dopo che i chip sono stati posti sulla scheda a circuiti stampati, l'assemblaggio passa in un forno a rifusione, dove in base alle specifiche di progettazione viene sottoposto a un ciclo basato su sette temperature differenti, fino ad un massimo di 500 gradi Fahrenheit. La pasta saldante viene polimerizzata sulla base di questo profilo. Terminato il trattamento in forno, tutti i prodotti sono sottoposti a un'ispezione ottica automatizzata finale. Al termine dell'ispezione, la scheda a circuiti stampati deve essere scontornata. Kingston utilizza seghe 2P a controllo computerizzato per rimuovere le sezioni di pannello in eccesso e per separare i dispositivi. La fase più esclusiva del processo di Kingston è quella di test dei prodotti. L'area di test include una suite completa di ambienti di test, la maggior parte dei quali interamente automatizzati e realizzati sulla base di progetti brevettati di Kingston, che detiene oltre 29 brevetti su attrezzature e processi di test. Il modello KT2100 è il primo tester automatizzato per elevati volumi produttivi ed è stato interamente sviluppato da Kingston. Brevettato dai tecnici addetti ai test di Kingston, il sistema può ospitare 8 schede madri, testando fino a 400 moduli all'ora. Il modello KT2500 è il più recente sistema di testing automatizzato per il test di elevati volumi produttivi, brevettato da Kingston e utilizzato per testare le memorie DDR3. Questo tester è in grado di ospitare 60 schede madri, testando 1000 moduli di memoria all'ora. Oltre ai test di produzione, tutte le memorie per server devono superare anche un test di burn-in. Le esclusive camere di test KT2400 brevettate di Kingston sono in grado di simulare un utilizzo intensivo dei server, sottoponendo le memorie a un carico di lavoro notevolmente superiore a quello tipico di un centro dati reale. La procedura serve ad evidenziare le celle difettose, minimizzando i difetti di funzionamento iniziali. Portata a una temperatura di 100 gradi centigradi, ogni cella è sottoposta a test rigorosi. Gli standard qualitativi di Kingston prevedono che i moduli di memoria che presentano anche una sola cella danneggiata siano considerati difettosi. Se si considera che un modulo di memoria per server da 16 GB può avere oltre 130 miliardi di celle, è intuibile il livello di eccellenza raggiunto dagli standard qualitativi di Kingston. Una volta confezionato, il prodotto finito viene distribuito a dettaglianti, negozi online, distributori, rivenditori e clienti di tutto il mondo. Tutti i siti produttivi di Kingston sono dotati di certificazione di qualità ISO 9001, certificazione di gestione ambientale ISO 14001 e OSHA 18001 in materia di salute e sicurezza e sono conformi agli standard ROS e WEE. Come si può constatare, il costante impegno profuso da Kingston nell'ambito della qualità rappresenta la chiave del suo successo, oggi come nel futuro.